Buon pomeriggio a tutti, innanzitutto vi ringraziamo per essere qua in questa conferenza stampa. L'oggetto, lo potete tranquillamente vedere dallo schermo, anticorruzione, le proposte del Movimento 5 Stelle. Oggi noi stiamo denunciando, per arrivare al maggior numero possibile di cittadini, l'ennesimo scandalo che ha colpito i vecchi partiti, in particolare oggi il Partito Democratico. Come sempre più spesso accade con il sindaco del comune di Lodi, Ugetti, e andremo ad analizzare non solo il singolo caso, ma andremo ad analizzare quelle che sono le proposte del Movimento 5 Stelle contro invece quello che non ha fatto o ha fatto di malissimo questo governo. La prima cosa che mi viene da dire, riferendomi al sindaco di Lodi, è che il sindaco di Lodi potrebbe domani, se dovesse passare il referendum confermativo sulla revisione della Costituzione del Presidente del Consiglio, può tranquillamente, tecnicamente diventare un senatore, può tranquillamente diventare un senatore come il Vice Presidente regionale della Lombardia, quel Mantovani, che oggi ha avuto il coraggio di presentarsi all'interno dell'Aula del Consiglio regionale della Lombardia, nonostante arrestato fino a ieri e liberato per un inghippo di natura più burocratica, ma certamente non per la gravità dei reati che gli vengono contestati. Il sindaco Ugetti, io arrivo dal territorio molto vicino a quello di Lodi, so perfettamente chi è, il sindaco Ugetti è il braccio destro del Vice Secretario del Partito Democratico, colui che ha per due mandati ricoperto l'incarico di sindaco della città di Lodi e due mandate all'interno dei quali il sindaco Ugetti svolgeva la funzione di assessore. Quando il sindaco Guerini ha dismesso la carica per essere eletto nel 2013 come parlamentare, chi è subentrato proprio il suo braccio destro Ugetti. Che cosa è accaduto? La dinamica e il quadretto è sempre lo stesso, si parla di appalti, in questo caso di appalti per l'assegnazione della gestione delle piscine esterne del Comune di Lodi. Come si è arrivati, e questo è importante, questo fa capire quanto l'azione del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli, anche e soprattutto a livello territoriale, sia fondamentale. Si è arrivati all'indagine della Procura con, e grazie anche ad una denuncia nel 2014, da parte dei esponenti, portavoce e attivisti del Movimento 5 Stelle sul territorio. La segnazione della gestione delle piscine esterne alla società Sporting Lodi è quella che ha portato all'arresto del sindaco Ugetti che sembra essere stato arrestato per il rischio di inquinamento dalle prove, perché lui o chi per lui stava cercando di formattare e quindi di cancellare dal proprio computer o dal computer di chi sapeva, aveva delle notizie importanti, questa faccenda. Per questo è stato arrestato. La stessa Sporting Lodi era con lei che gestiva la piscina coperta, progetto voluto da Lorenzo Guerini, quando Lorenzo Guerini era sindaco della Comune di Lodi. Un progetto fallimentare, all'interno del quale, per volontà della Giunta Guerini, c'era un'esposizione di fideiussione a carico del Comune di 13 milioni di euro e il Comune si impegnava a pagare 300 mila euro l'anno per 35 anni a questa Sporting Lodi. Il Movimento 5 Stelle locale, viste le enormi spese ed i ritardi che c'erano nella costruzione dei lavori da parte della società assegnataria, dell'appalto sulla piscina al coperto che ha fatto, ha fatto un esposto in procura. La procura ha iniziato ad indagare sulla gestione della piscina coperta ed ha esteso, grazie, ripeto, all'esposto del Movimento 5 Stelle, ha allargato l'indagine anche alla piscina scoperta e si è arrivati agli scandali di oggi. Io mi fermo qua, passo la parola al collega Bucarella che inizierà a affrontare quelle che sono le proposte del Movimento 5 Stelle nell'ambito anticorruzione. Grazie, buonasera a tutti. Le proposte credo che siano già abbastanza note perché nel corso degli ultimi anni, anzi da quando siamo entrati qui in Parlamento abbiamo in ogni occasione fatto le proposte che non solo sono le più ragionevoli, le più utili, ma che hanno trovato spesso anche l'appoggio in diretto anche dai massimi esponenti di chi combatte ogni giorno il fenomeno corruttivo. Parlo ovviamente dei magistrati, delle esponenti, delle forze dell'ordine anche tra gli esponenti di associazioni che lottano per la legalità e contro la corruzione che hanno sempre salutato e dato giudizi positivi alle nostre proposte anticorruzione, proposte che ai noi il Governo non ha ritenuto di adottare nella massima parte. Facciamo un brevissimo escursus per ricordare, facciamo riferimento a un argomento collaterale al fenomeno corruttivo precisamente. Ricorderete la grande battaglia che abbiamo condotto per la modifica dell'articolo 416 ter del codice penale, lo scambio elettorale politico mafioso, che pur non avendo attinenza precisa con i reati contro la pubblica amministrazione, è certamente un reato che nelle realtà dove l'infiltrazione mafiosa è notevole e contribuisce a creare quell'humus di illegalità e di scoraggiamento soprattutto da parte dei cittadini che fa sì che oggi l'Italia debba ritrovarsi in fondo alle classifiche internazionali di Transparency International. Il 416 ter purtroppo prevede ancora la punibilità solamente qualora il pubblico ufficiale, il politico, venga contattato con modalità mafiose, quasi che la mera appartenenza, la notoria appartenenza a un clan criminale di tipo mafioso in ambito locale, i personaggi sono notissimi, non sia di per sé già un fatto che debba configurare un fatto di reato tutte le volte in cui ci sia uno scambio elettorale evidentemente. Il reato di autoriciclaggio così come approvato l'anno scorso dal Parlamento ha anche stato notevolmente potenziato rispetto alle nostre aspettative e alle nostre proposte, lì dove ricordiamo non è punibile l'utilizzo delle somme rivenienti dal reato presupposto tutte le volte in cui queste somme siano rivolte a utilizzi per godimento personale. Del falso in bilancio sappiamo tutti che solo recentemente la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite ha dovuto finalmente dire la parola definitiva in merito all'interpretazione del mancato inserimento del cosiddetto falso valutativo, cioè nei bilanci tutte le società, magari quelle partecipate, fino a oggi hanno potuto falsificare bilanci o mettere voci rilevanti tutte le volte in cui si trattava, si faceva riferimento a criteri soggetti a stima, valutazione, la stima di immobili, la stima di crediti inesigibili e quant'altro. Noi l'avevamo detto, lo riproporremo nella prossima occasione, che il reato di falso in bilancio che come sappiamo è una delle fonti primarie del fenomeno corruttivo dove si crea la provvista che serve poi a comprare i politici corrotti andava regolamentata prevedendo e punendo anche questo facile scamotaggio in cui per falsificare un bilancio qualsiasi consulente fiscale, diciamo poco onesto, può tranquillamente suggerire al proprio cliente di andare tranquillo nella falsificazione di un bilancio con riferimento appunto ai beni valutabili. Noi l'avevamo detto, ci sono state sentenze in Cassazione che come a voi noto io ricordo che la prima pronuncia dopo l'estate del 2015 ha visto assolto proprio un responsabile della società di comunicazione del ex senatore Silvio Berlusconi, Crespi, proprio in virtù di questo indirizzo legislativo che noi abbiamo contrastato fortemente ed è stata una delle motivazioni per le quali ricorderete l'anno scorso sulla legge 69 cosiddetta anticorruzione il voto del Movimento 5 Stelle dopo la consultazione online è stato contrario proprio perché vedevamo queste grandissime criticità come quella del falso in bilancio. Le sezioni unite hanno provveduto e se ci avessero dato ragione in tempo non sarebbe stato necessario scomodare la Suprema Corte e le sezioni unite. Che cosa è necessario oggi per combattere il fenomeno corruttivo? Oltre all'amento delle pene occorre aumentare quegli strumenti che sappiamo anche per quello che ci dicono tutti i procuratori siccome sono i reati quelli corruttivi nella maggior parte dei casi scoperti a distanza di tempo dal loro verificarsi siccome sappiamo che la disciplina delle prescrizioni di cui parlerà più diffusamente il collega Bonafede spesso le notizie di reato vengono a conoscenza dell'autorità giudiziaria a distanza di anni di tempo quello che accade è che nella gran parte dei casi si arriva alla conoscenza del reato e quindi all'inizio del procedimento penale dopo 5-6 anni quando una prescrizione che finisce cioè uccide il procedimento a 7 anni e mezzo e nella impossibilità nella gran parte dei casi di pervenire una sentenza definitiva nel termine consentito. Ma della prescrizione ne parlerà il collega. Quindi però in funzione di questo fatto qual è lo strumento più efficace forse ancora più dell'aumento delle pene dare gli strumenti investigativi affinché o comunque incentivanti affinché i fenomeni corruttivi vengono fuori presto e non a distanza di anni magari per fatalità o per intercettazioni relativamente a procedimenti collegati ecco perché una figura investigativa potentissima di cui non riteniamo il sistema politico ha paura, quella della gente sotto copertura o a gente infiltrato uno strumento che già conosciamo in Italia viene utilizzato contro il terrorismo il traffico internazionale d'armi contro i fenomeni di pedopornografia internazionale ebbene quello strumento nei pererati contro la pubblica amministrazione sarebbe devastante perché lascerebbe tutti i centri di potere dall'ultimo comune italiano sino in qualche commissione parlamentare, lì forse no ma in tantissimi ambiti delle pubbliche amministrazioni lascierebbe il pubblico ufficiale nel dubbio se si trova davanti o un imprenditore o un altro funzionario corrotto oppure un agente di polizia giudiziaria che non a strascico ma nell'ambito di indagini penali già pendenti e sotto il coordinamento di un pubblico ministero conduce indagini non per provocare, attenzione perché qui bisogna distinguere le figure dell'agente provocatore figura che noi francamente vedremmo bene come quella che utilizza l'FBI negli Stati Uniti ma quantomeno l'agente sotto copertura, cioè colui che si può infiltrare nei tessuti corruttivi e scoprire senza dover aspettare i casi in cui i fenomeni corruttivi si scoprono tirar fuori il fenomeno e così questo avrebbe un effetto deterrente automatico per la sola esistenza dell'agente sotto copertura ci sarebbe molta più attenzione da parte dei pubblici ufficiali questo sarebbe uno strumento fortissimo estendere il cosiddetto daspo, ricordiamo Renzi che in una conferenza stampa annunciava che avrebbe esteso il cosiddetto daspo per i corrotti cioè la incandidabilità alle cariche politiche e amministrative perché è condannato per fenomeni corruttivi noi abbiamo fatto le proposte e le riproporremo in gran forza affinché la interdizione dei pubblici uffici e l'incapacità a contrarre per gli imprenditori corrotti o che corrompono sia definitiva e perpetua per tutte le fattispecie di reato oggi previste solo in maniera limitata dall'articolo 317 bis del codice penale potremmo estendere anche ad altri reati corruttivi quindi la interdizione e l'incapacità a contrarre un altro strumento sto per avviarmi al termine che sarà perché passerà certamente anche questo prima o poi o con noi o senza di noi la figura del cosiddetto whistleblower cioè di chi segnala c'è una disciplina normativa che mira a tutelare chi segnala reati o regolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto lavorativo pubblico o privato anche qui ci sono input di natura anche internazionale che spingono l'Italia di dotarsi di questo strumento che farebbe sì che a noi portavoce a me succede penso succeda spessissimo anche ai miei colleghi ormai noi anche nelle nostre case diventiamo quasi caserme dei carabiniere adesso immagino che valga anche per i colleghi cioè ci arrivano ci prevengono input di persone che si rivolgono a noi non perché noi siamo dei geni o come dire più esperti di persone che lo fanno per lavoro però si rivolgono a noi portavoce del Movimento 5 Stelle perché sanno che noi siamo libri e dietro le spalle non abbiamo nessuno da difendere o favori da ricambiare per segnalarci i fenomeni corruttivi dalla ASL o alle società partecipate in ogni latitudine d'Italia queste persone hanno paura perché nel loro ambiente lavorativo sono molto spesso mobizzate e sottoposte comunque a trattamenti scoraggianti per voler usare un eufemismo nel far venire fuori tutto il marcio di cui l'Italia è piena e di cui noi vorremmo fare volentieri a meno il disegno di legge sul whistleblowing oggi è al Senato è stato assegnato alla prima commissione permanente e noi avremmo gradito che magari la commissione giustizia che anche in questo ramo del Parlamento la Camera se ne è occupata insieme a un'altra commissione seguisse i lavori da parte nostra certamente anche con i nostri colleghi in Senato in prima commissione faremo di tutto affinché quel disegno di legge vada avanti e trovi termine possibilmente in una forma che non sia stravolta e che mantenga il potenziale quindi queste qua sono alcune delle proposte delle necessità per il Paese che il Movimento 5 Stelle ha fino a rilaborato ma queste poi se ne aggiungeranno anche altre e passo subito la parola ad Alfonso Bonafede grazie a tutti grazie buonasera a tutti dirò subito che è evidente a tutti visto che scoppia almeno e dico almeno uno scandalo a settimana relativo spesso a corruzione se non a casi di criminalità organizzata e sono tutti casi che investono i partiti compreso e soprattutto il partito democratico dico subito che l'Italia in questo momento si trova più che nel passato in una vera e propria emergenza di legalità cioè lo Stato oggi deve dare una risposta e questa risposta non può più essere equivoca questa risposta non può più ammettere zone d'ombra lo Stato deve lo Stato italiano deve dare un messaggio chiaro agli onesti e ai disonesti e questo messaggio deve essere che chi è disonesto paga e deve dare un messaggio agli onesti nel senso di prospettiva di un futuro in cui in Italia ci può essere una classe politica che governa questo paese in maniera onesta perché l'onestà è un messaggio il seme dell'onestà coltivato nella pubblica amministrazione comporta anche un messaggio chiaro sul fatto che è giusto pagare le tasse sul fatto che è utile pagare le tasse sul fatto che lo Stato risponderà ai cittadini onesti con servizi che sono all'altezza dei soldi che quei cittadini onesti spendono noi ci troviamo di fronte ad una situazione in cui un cittadino onesto in Italia ha la sensazione che i soldi che paga per le tasse arrivino poi nella maggior parte dei casi nelle tasche di politici o di corrotti o comunque della criminalità organizzata allora noi rispetto a questo oltre alle misure che ha già illustrato il senatore Buccarella abbiamo individuato alcuni punti di carattere economico fondamentale questi punti riguardano l'evasione allora dobbiamo dire chiaramente che le norme che sono state approvate dal governo Renzi sull'evasione sono una sorta di consigli utili per gli evasori vengono introdotti tutta una serie di cavilli che non fanno altro che impedire allo Stato di combattere in maniera netta e chiara l'evasione facciamo un esempio su tutti quello della dichiarazione infedele la dichiarazione infedele l'evasione per dichiarazione infedele allora qualcuno dovrebbe spiegare a chi serve una legge che oggi è in vigore grazie al governo anzi per colpa del governo Renzi che dice che non è più reato di evasione se la dichiarazione infedele è inferiore a 150 mila prima avevamo un'evasione che era la soglia minima era 50 mila il governo Renzi ha sentito l'esigenza qualcuno dovrebbe sempre spiegare ai cittadini onesti perché di aumentare questa soglia da 50 mila a 150 mila con una serie di cavilli che sono inaccettabili per una persona onesta perché poi non c'è solo l'aumento della soglia ma la sproporzione tra quanto dichiarato e quanto realmente invece l'evasore ha nelle sue tasche deve essere almeno del 10% quindi non solo c'è la soglia ci deve essere pure almeno una divergenza del 10% divergenza che nella vecchia normativa era superabile quando l'evasione aveva superato pensate un po' 2 milioni di euro nascosti al fisco il governo Renzi ha pensato che 2 milioni di euro erano pochi andavano aumentati e questa cifra è aumentata questo importo è aumentato da 2 milioni di euro a 3 milioni di euro io vi sto raccontando soltanto una minima parte di quella che è una normativa complessivamente finalizzata a dare un messaggio agli evasori di tolleranza in questo senso non può che essere letta anche la norma che ha aumentato l'utilizzo dei contanti da 1000 a 3000 euro allora qual è la risposta del Movimento 5 Stelle rispetto a queste norme e soprattutto qual è la risposta che il Movimento 5 Stelle vuole dare ai cittadini onesti che pagano le tasse è semplice uno devono essere diminuite nuovamente le soglie sotto le quali si ha reato cioè sopra le quali si ha reati 50 mila come evasione per dichiarazione infedele è una soglia già altissima e vi ricordo a tutti che per omesso versamento di IVA è stata quintuplicata dal governo Renzi la soglia da 50 mila a 250 mila euro allora noi riabbassiamo di nuovo queste soglie le facciamo tornare a quello che c'era prima del governo Renzi ritorniamo a dire che il contante può essere utilizzato fino a 1000 euro non ha senso aumentare oltre 1000 euro l'utilizzo del contante e introduciamo lo faremo grazie al nostro sistema operativo Rousseau e grazie alla funzione LEX che è già operativa che è già funzionante su Rousseau perché lo condividiamo sempre in rete con i cittadini una legge che stabilisce che la confisca che per ora si ha per i reati di mafia e si ha per i reati per esempio con la pubblica amministrazione deve essere estesa anche all'evasione chi è condannato per evasione chi è condannato qui non c'è nessun giustizialismo e nessun concetto qui si parla di onestà chi è stato condannato per evasione deve essere soggetto alla possibilità per l'autorità giudiziaria di provvedere alla confisca questo cosa vuol dire che l'evasore una volta condannato deve essere in grado di dimostrare la legittima provenienza del suo patrimonio qualora questo eccede i suoi guadagni dichiarati perché altrimenti è troppo facile spogliarsi dei beni o intestarla ad altri e la confisca infatti stabilisce che può venire anche quando l'evasore sia in possesso di beni a qualsiasi titolo anche per interposta persona troppo facile intestare un bene che un cittadino disonesto ha comprato grazie all'evasione ad un altro soggetto a noi queste vie di mezzo non interessano questi cavilli in Italia non devono esistere più e siccome la confisca è prevista sia per i reati di mafia sia per i reati contro la pubblica amministrazione deve essere stesa anche all'ipotesi di evasione dico un'altra cosa dopo il caso mafia capitale l'allora vice ministro della giustizia si presentò in commissione giustizia dicendo che c'era un'emergenza e tutti si aspettano che si tratta di combattere il caso mafia capitale o di introdurre norme più rigide in quel caso invece il vice ministro di allora ci spiegò che l'emergenza era fare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati un mese dopo il governo Renzi ritiene che l'emergenza italiana sia quella di fare una legge bavaglio contro le intercettazioni ricordo che è grazie alle intercettazioni che era emerso il caso mafia capitale un anno e mezzo dopo scoppia il caso Trivellopoli e abbiamo di nuovo un governo che di fronte a uno scandalo del genere torna a parlare di legge bavaglio contro le intercettazioni e torna ad attaccare la magistratura anche questo è inaccettabile è il momento di dire basta perché di fronte a questi scandali il Movimento 5 Stelle si prende la responsabilità di dire che il messaggio deve essere di onestà e che le priorità devono essere altre allora la legge sulle intercettazioni la disciplina attuale non va toccata va bene così è già rispettosa della privacy non c'è bisogno di alcun intervento primo deve essere cambiata la vera emergenza oggi è la prescrizione non è ammissibile che i tribunali siano pieni di imputati che si accomodano e che aspettano che arrivi la gognata meta della prescrizione vogliamo sapere come andrà a finire l'ultimo scandalo del partito democratico quello di stamattina se ci sarà il rinvio a giudizio sappiamo già che la storiella l'immagine classica sarà dell'imputato che si accomoda in tribunale calcolatrice alla mano e aspetta che arrivi la prescrizione è inaccettabile anche per i costi che i cittadini sopportano nel 2015 a Venezia il 50% dei processi si è chiuso per la prescrizione sono soldi che i cittadini italiani hanno speso per far funzionare la macchina giudiziaria a Roma il 30% dei processi si volatilizza per la prescrizione la prescrizione va interrotta con il rinvio a giudizio dell'imputato con il rinvio a giudizio lo Stato ha già accertato che ci sono dei presupposti per la possibile condanna e c'è stato anche il giudizio di un giudice terzo ci sono tutti i presupposti perché la prescrizione venga interrotta in quel momento se il Partito Democratico volesse proporre di interrompere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado possiamo anche accettare un dialogo di quel tipo e potremmo anche votare una proposta di quel tipo ma per noi questo deve essere chiaro la prescrizione deve interrompersi al momento del rinvio a giudizio siamo disponibili ad ipotizzare una norma che preveda che la prescrizione venga interrotta dopo la sentenza di primo grado non hanno senso tutte le altre proposte del Partito Democratico tra l'altro elaborate state probabilmente alla luce degli accordi con Verdini il che quanto dire che tendono ad allungare i tempi di prescrizione non ci interessa allungare perché questo vorrebbe dire sollecitare gli imputati a stare un altro po' nei tribunali ad impugnare arrivare al terzo grado poi con il rinvio sempre per aggirare la giustizia queste sono norme chiare perché chiaro è il messaggio che deve arrivare ai cittadini l'onestà è l'unica prospettiva per questo Paese grazie buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui sono tre anni che siamo in Parlamento li leggo tutti assieme gli scandali Expo Mose Franco Antonio Genovese la truffa dei fondi per la formazione dei giovani siciliani mafia capitale tra l'altro la seconda tranche di arresti mafia capitale è datata 11 mesi fa non 11 anni fa 11 mesi fa lo scandalo della sanità a Lombardia l'arresto del vicepresidente lo scandalo della metanizzazione dell'isola di Ischia lo scandalo innumerevoli scandali legati alla sanità in Calabria Trivellopoli ultime due settimane due settimane 14 giorni sciolto Brescello per mafia un comune riconducibile al PD mai nella storia un comune dell'Emilia Romagna era stato sciolto per mafia Gomorra PD indagato il presidente del PD in Campania per associazione per concorso esterno associazione camorristica e oggi l'arresto del sindaco di Lodi tra l'altro che fa perdere la faccia al vice segretario Guerini noi siamo opposizione possiamo stare qui ogni settimana perché di questo si tratta ogni settimana a continuare a delencare gli scandali legati alla corruzione e al sistema partitocratico soprattutto del partito di maggioranza però questa è una fase nuova per il Movimento 5 Stelle noi ci stiamo proponendo in maniera chiara come alternativa di governo per cui tutte le proposte fatte costruite sottoscritte studiate che sono state presentate poc'anzi dai miei colleghi finiranno nei prossimi giorni in un vero e proprio documento che lanciamo oggi che presentiamo oggi e lanceremo nei prossimi giorni la carta dell'onestà raccoglierà tutte le nostre proposte contro l'emergenza della corruzione per la corruzione è un'emergenza e deve essere trattata in maniera appunto come fosse un'emergenza come negli anni 80 negli anni 90 è stata trattata la mafia anche perché mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia senza soprattutto lo scandalo mafia capitale ce lo fa capire ma tutti quanti senza la corruzione dei politici le organizzazioni criminali non avrebbero la forza che hanno ora io vedo che il Presidente del Consiglio per distrarre l'opinione pubblica da innumerevoli scandali che appunto travolgono il suo partito gira l'Italia inaugurando anche opere che non non occorre neanche inaugurare perché non sono mai crollate o sono state già inaugurate 30 anni fa l'unica cosa che il Partito Democratico Romano ha co-inaugurato prima che i Carabinieri facessero polizia non il Partito stesso i Carabinieri è la quinta organizzazione criminale di questo Paese mafia capitale che senza i politici arrestati 11 mesi fa soprattutto del Partito Democratico non avrebbe non sarebbe nata ora noi abbiamo pronto un pacchetto una carta dell'onestà prima che Guerini perda del tutto la faccia e prima che Renzi perda del tutto la faccia appunto travolti da questo scandalo da scandali su scandali hanno una questione il problema del PD non è una questione morale è una questione immorale prima che perdano del tutto la faccia devono ascoltare a tutti i costi le nostre proposte e devono votarceli perché è possibile farlo noi diamo questo pacchetto una carta dell'onestà a disposizione al governo anche perché la legislatura continua perché l'unico interesse del Movimento 5 Stelle è sconfiggere questo cancro perché la corruzione è un cancro che coinvolge tutti i partiti soprattutto adesso il Partito Democratico non sappiamo se comunque vedremo se il Presidente del Consiglio vorrà e sottoporrà al vaglio di Verdini questo pacchetto anticorruzione perché può darsi perché ormai è di fatto entrato in maggioranza nonostante le parole ipocrite e ridicolo che dice il Presidente Orfini perché nel momento in cui sei così subisci questa sudditanza nei confronti di un partito come quello di Verdini che ha più indagati che anzi Verdini ha più processi che elettori e che è condannato in primo grado per corruzione è evidente che difficilmente potrai ascoltare le proposte che provengono appunto la carta dell'onestà insomma cozzo un po' con la figura di Verdini questo è il Movimento 5 Stelle siamo forti siamo alternativa di governo siamo convinti che queste proposte siano giuste siamo anche disposti come ha detto il Deputato Bonafede a trovare un accordo sulla prescrizione appunto sospendiamo la prescrizione quando c'è condanna in primo grado così il delinquente che sa che si arriverà a sentenza di condanna anziché buttare soldi pagando un avvocato magari chiederà riti abbreviati sconti di pena e si arriverà a sentenza di condanna e di assoluzione ma è il delinquente stesso che vorrà un processo più breve perché spenderà meno soldi e magari otterrà delle pene inferiori è proprio la riforma della prescrizione intesa come sospensione che produrrà una riduzione dei tempi processuali è logico non lo vogliono fare perché adesso perché Renzi è tirato dalla giacchetta da Verdini da un partito ripeto da un politico che ha più processi che elettori non c'è da dire nient'altro la nostra proposta è chiara nei prossimi giorni nelle piazze d'Italia e in rete raccoglieremo adesioni per una carta dell'onestà che raccoglie tutte queste proposte di buon senso ed altre che il Movimento 5 Stelle da quando è in Parlamento ha fatto sono soluzioni e vi chiedo davvero di riportare questo termine perché noi stiamo producendo delle soluzioni contro un'emergenza che si chiama corruzione e corrompere significa rompere in tanti pezzi la corruzione ha distrutto la sanità la scuola pubblica la politica la pubblica amministrazione il futuro dei cittadini il presente dei cittadini italiani la corruzione è legata alla diminuzione dei posti di lavoro se sconfiggi la corruzione o combatti la corruzione ha delle risorse da investire per creare posti di lavoro il politico che ruba i soldi che finiscono le tasche di un politico sono meno soldi che finiscono i servizi per i cittadini meno soldi che possono finire a sostegno della piccola e media impresa l'impresa che per ottenere un appalto pubblico corrompe fa danno a quell'impresa che avrebbe diritto di ottenere un appalto in maniera onesta per questo il DASPO verrà applicato anche a quelle imprese che vengono pizzicate appunto con le mani della marmellata se tu sei un'impresa privata e hai corrotto un politico per ottenere un appalto pubblico tu non potrai mai più partecipare a bandi pubblici questa è la proposta del Movimento 5 Stelle il DASPO per le imprese come c'è il DASPO appunto per i corrotti se sei stato condannato in via definitiva in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione i reati da colletti bianchi e i colletti bianchi in questo paese in carcere non ci vanno tu non potrai mai più partecipare a delle elezioni questo è un paese che vive un dramma è un paese in cui se non paghi il canone rischi il carcere da 8 mesi a 4 anni ma se ti chiami Verdini e vieni condannato per corruzione rischi che il Presidente del Consiglio ti faccia padre costituente e questo per noi è inaccettabile Renzi vediamo che cosa fa la faccia l'hanno già persa se non la vogliono perdere del tutto Renzi e Guerini questa è la nostra carta dell'onestà grazie a tutti grazie a posto grazie 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 a tutti grazie a tutti